Salute a tutti e benvenuti in regione del Sardo. Oggi è il Sardo 11 puntata e usa questione di un fenomeno sintattico antico-meta. Nosu, narausu, savesta, suvradi, savemmina, ma suvrurali, nobessidi, is festasa, is fradisi e is femminasa, pigada un sono differente. Nosu, narausu, is festasa, ma sa'efa, sa'efa e sa'efa, quando usagattanta di aici sattobianta, besinti sono SH. Dunque, sa pronuncia esti is festasa, acetotto is fradisi, devo scrivo is fradis, ma sa'efa e sa'efa e sa'efa e sa'efa e sa'efa e sa'efa, is femminasa, scritto 10, ma sul fenomeno è sempre sul proprio. Codumgine sa'efa e sa'efa, quando usagli di aici sottobianta, fainti susonu SH, besiti sono SH e dunca sabbesiti is cemminasa. la vai isceminasa, noso d'intendeus meda, in isprocessionesi, in isaccompagnamentus, in is pregatorias antigas, candunanta beneittasi a statui intresceminasa, car questa è una pregatoria antica che ha imparato da tornare a noi, questi saprò che questa zona sia da spainau in ogni luogo, ma da un secolo, no, da un secolo, no, da cinquant'anno a oggi, questi sparescendosi a bello a bello, però è meglio usare la tutoria ci appai. Accettato, un altro fenomeno che si sparescendosi è costo. Deo scrivo grugi, però quando poneo sull'articolo, quando teneus sa che a tobia saggi che esti accanto ad una erra, saggi da ruidi, sa pronuncia esti saruggi. Teneus un montone di semproso, poi noi in Crabonaggia, questa è una villa Simius, noso teneus portus a ruggi, scritto mali, però, a su manco anche a rispettare questa pronuncia, in Crabonaggia, teneus generugi, scritto di aici, ma chi lo scrive bene, dopo lo scrive di aici. genna, de, sa, genna de saruggi, cum saggi chi si sparescidi. Io adessiri una cosa bella, attorrai, appicai, questa maniera di pronunziai su sadro, che vunti, che esti uno scruzoso de suo tempo su passau, che deve usare lo gai e deve usare a mostai, o endia a tottuso. Poi a totto, si piega su saci da chiediti. se tu dà o preguntas a piti delle lezioni, se che sei su vendi, fai da si iscrivi in su bivimento che accattai se ne ho risulta. Siamo editora, alfa editrice, in sua pagina Facebook e ai suoi canali YouTube. A si piri un saluti. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.